Storicamente la Federal Reserve ha sempre fallito. Stiamo andando forse incontro a un atterraggio duro? Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Per atterraggio duro si intende una recessione che si faccia sentire. Sapete come invece si sia teorizzato un atterraggio morbido e di come io ne abbia parlato più e più volte all'interno del mio canale. Quindi ragazzi ora vi vado a condividere un po' di grafici, ovvero lo schermo del mio computer ricco di contenuti e io vi chiedo un'iscrizione al canale e di lasciare un bel like per sostenere qui tutto quanto il mio lavoro sul tubo. Iniziamo da questo grafico che non va a rispondere tanto ai nostri quesiti quanto va a evidenziare l'anomalia storica, economica, finanziaria in cui ci troviamo. Anche di questo abbiamo parlato più volte mostrando differenti squilibri. Quindi non si tratta soltanto di un indicatore o di una situazione. Viviamo un'epoca veramente strana e purtroppo non solo in ambito economico e finanziario ma ovviamente queste sono le tematiche oggetto del mio canale. Ora andate a vedere una cosa insieme a me. Guardate, con la linea blu noi stiamo osservando l'andamento dell'interest rate degli Stati Uniti d'America. Quindi praticamente il tasso di interesse molto importante in ambito economico e finanziario. E invece qui con il grafico a candele stiamo vedendo l'andamento delle quotazioni del noto indice S&P 500. Quindi delle 500 aziende più capitalizzate degli Stati Uniti d'America. E guardate una cosa, in passato, quantomeno insomma nel recente passato, quello un po' più prossimo a noi, quindi parlo dalla fine degli anni 90 ad oggi, guardate come il picco del mercato, cioè il suo massimo storico, sia andato a coincidere con il picco dei tassi di interesse verso l'alto. Guardate l'esempio qui, stiamo a settembre 2020, prima della crazy.com, il mercato era salito come se non ci fossero domani e i tassi di interesse si trovavano al massimo del proprio periodo, vedete? Quindi vi era stato un forte rialzo nell'anno precedente e poi avevano fermato questi rialzi. Guardate come vi sa questa corrispondenza, il mercato che scende e il taglio forte e rigoroso dei tassi di interesse nel periodo successivo, quindi crazy.com, problemi in ambito economico, recessioni e così via. Taglio dei tassi per andare a stimolare l'economia. Guardate poi successivamente, spostiamo questa linea verticale e ci andiamo qui a insinuare sui massimi del mercato, del ciclo successivo, in cui va a registrare di nuovo i suoi massimi storici, l'indice, e purtroppo non riesce a superarli perché si in genera la crisi dei mutui subprime e quindi poi è accascata tutta quanta una crisi finanziaria. Ma guardate più o meno come i massimi del mercato si andate a coincidere con un periodo storico con i tassi più alti rispetto al passato. Quindi vi si era da poco arrestato un ciclo di rialzo dei tassi, si era stabilizzato, aveva trovato diciamo pace il suo pivot e i mercati hanno raggiunto il massimo in quell'ambito lì. Insomma così assistiamo anche più o meno quindi nel 2018. Poi invece guardate adesso, guardate come il mercato abbia raggiunto i suoi massimi con gli interessi allo zero, quindi con i minimi possibili e immaginabili. Dopodiché abbiamo qui per la prima volta un mercato che continua a crollare mentre i tassi continuano a crescere. Ecco qual è l'anomalia. Come mai in passato abbiamo assistito a quei scenari discritti e ad oggi stiamo assistendo a questo? Perché è tutto molto differente. In un ambito normale, cioè quello del passato, ovviamente il mercato finanziario, cioè i mercati azionari. Ovviamente non c'è sempre una sovrapposizione che coincide esattamente nel periodo storico. Sappiamo come i mercati tendano ad anticipare un po' l'economia reale. Quindi c'è sempre un po' di differenza temporale. Ma, morale della favola, una profonda recessione vede un mercato azionario che crolla. Solitamente, non sempre, ma solitamente un mercato azionario che crolla è accompagnato da una crisi economica. Quindi vanno a braccetto. Ma non sempre queste situazioni perché in passato sono anche visti dei mercati ribastissi, con il dominio degli orsi, ma poi tutto sommato l'economia aveva retto. Ma è chiaro che spesso invece vi ha una sovrapposizione. E quindi, quando l'economia va in difficoltà, il mercato scende, allo stesso tempo, quello che fa una banca centrale, fra le varie armi che ha, è quella di andare a tagliare i tassi. Invece guardate adesso qui. Il mercato azionario sta crollando, i tassi stanno aumentando. Perché è un altro lo scenario. In questo istante non vi è un'urgenza economica. Anzi, vi è addirittura la volontà di andare a creare una crisi economica. Ovviamente questo è un parolone. Da Federal Reserve e le banche centrali non vorrebbero creare una crisi economica. Ma si sta assumendo questo rischio. Quindi, quantomeno parliamo che la volontà è quella di raffreddare l'economia, non di creare una crisi. Ma il pericolo di crearla è abbastanza elevato. Perché? Perché sostiste un'inflazione fuori controllo. Non vi era in questi anni un'inflazione così fuori controllo. E poi non vi era una massa monetaria. Non vi erano stati gli stimoli economici così potenti rispetto a quello che abbiamo assistito appunto negli ultimi anni. Cioè, il passato era differente. E quindi abbiamo creato questa anomalia. Vediamo un mercato che crolla con il rialzo dei tassi di interesse che vanno sempre su su verso l'alto. Quindi poi vedremo come si andrà a risolvere questa situazione. Però volevo farvi notare rispetto agli anni 90, e le varie crisi che abbiamo attraversato, come sta andando oggi. Andiamo avanti. E la risposta attuale di molti investitori è che in realtà vadono a scommettere e potrebbero sbagliarsi. Lo sapremo solo in futuro chi avrà avuto ragione. e prevedono un atterraggio tutto sommato morbido. Da cosa lo andiamo a devincere? Poi da domani mattina presto potrebbe cambiare tutto, eh? Cioè, qui nessuno sta facendo previsioni, ragazzi. Io sto leggendo dei dati. E li stiamo interpretando insieme. Allora, vedete questo... Con la linea blu, in pratica stiamo vedendo l'andamento del manifatturiero. Cioè, non è che sta andando alla grande negli Stati Uniti d'America, ma come non sta andando alla grande in Europa o in Italia, no? Ma, con la linea tratteggiata, vediamo invece lo spread che c'è fra l'investimento ciclico, cioè verso azioni cicliche, ovvero che subiscono fortemente l'andamento delle condizioni economiche, quindi possono sovraperformare il mercato, correre tantissimo quando l'economia va bene, invece possono fare davvero male quando l'economia va in recessione. Quindi sono cicliche, in quanto rispettano questi titoli azionari la ciclicità dell'economia. Più o meno tutti li rispettano, però esistono delle azioni cosiddette anticicliche o comunque difensive, dove ad esempio questa sensibilità è minore. Immaginate magari una Proctor & Gamble, quindi se acquistiamo, se un'azienda vende bene come la carta igienica, le lamette e gli assorbenti di spazzolini da denti, capite bene che subirà meno la crisi rispetto a un'azienda che vende viaggi oppure veicoli. Perché? Perché lo spazzolino me lo continuo a comprare, se sono difficoltà economica, banalmente vado a tagliare magari viaggi oppure vado a rimandare l'acquisto di un'auto. Quindi, quel che ci dice questo grafico, se questo grafico non scende, vuol dire che tutto sommato gli investitori stanno ancora scommettendo in maniera importante o comunque sono ancora disposti a comprare e investiti o a rimanere tali su azioni cicliche. Quindi non vi è questo spostamento ipermassivo, come dovrebbe esserci, su investimenti difensivi e anticiclici in questo momento. Magari lo spostamento ci sarà anche stato, ma non è così evidente, non è così forte, non è come dovrebbe essere. E vediamo questo spread, infatti, che c'è fra l'andamento del manifatturiero e l'andamento invece dello spread che vi ho raccontato. Ecco qui la freccia. Andiamo ancora avanti. Ma come mai tutti in realtà abbiamo delle difficoltà a orientarci? Abbiamo visto le mille anomalie qui sul canale, ormai descriviamo da un anno, ma eccola un'altra anomalia. Uno va a vedere il consensus net income, praticamente va a vedere gli utili delle aziende quotate in borsa, in questo caso dell'S&P 500. osserviamo la linea azzurra e notiamo che tutto sommato vi è una sorta di resistenza, cioè non vi è un tracollo, vi è una difficoltà evidente. Però l'indice azionario è comunque sceso, anche se nelle ultime settimane si è ripreso e poi sta tenendo, da inizio anno comunque ha perso. Quindi tutto sommato è coerente, anche se nell'ultimo mio video vi ho fatto vedere come sarebbe dovuto crollare di più. Il problema qual è? Che venivamo proprio da quotazioni esagerate, enormi, quindi se in una scena normale magari un mercato che ha fatto il meno 20% va bene, in realtà per riequilibrarsi verso delle medie storiche che abbiano senso avrebbe dovuto perdere molto di più. Lo farà? Forse. È sicuro? Assolutamente no. È probabile? Sì, è sempre il condizionale d'obbligo essenzialmente. Ma qual è l'anomalia? Vedete qui il grafico, cioè la linea all'intorno del grafico, che colore vogliamo definirlo? Non so, un senape, un oro sporco, non lo so, ma ci siamo capiti. E guardate come sia molto più in basso. Perché? Perché qui andiamo a escludere gli utili degli energetici. Sono gli energetici che hanno sostenuto gli utili dell'indice. Ma qual è ancora un'anomalia? Solitamente gli energetici vanno male, sottoperformano il mercato quando vi è una crisi economica, e si comincia, perché il mercato si porta avanti, a scaricare le aziende energetiche quando c'è sentore di recessione. Perché? Perché ovviamente facendo soldi con la vendita del petrolio, benzina, tutto ciò che ne deriva e così via, una recessione economica raffredda i movimenti delle persone. Quindi i viaggi, i consumi, proprio materiali, fisici, dei trasporti e così via. Significa calo dei fatturati per gli energetici, calo dei prezzi degli energetici, quindi tutto quanto quello che ne consegue. Ma la crisi del conflitto bellico, più tutte quante le altre situazioni ben note, che raccontano il telegiornale, hanno portato a questa anomalia, quindi a superaperformare gli energetici. Fino ad oggi, ovviamente, le cose comunque cambieranno, vi è anche lì una forte ciclicità. Ora, andiamo avanti e arriviamo al topic proprio del titolo di questo video, ovvero la Federal Reserve e le Financial Crisis. Quindi le crisi finanziarie, la Federal Reserve, non è mai riuscita a evitarle. D'altronde, perché va a intervenire? Perché si va a muovere sui tassi di interesse? Per dominare l'economia. Ma non ci riesce. Quindi, purtroppo, sfugge di mano, no? La situazione. È un po' come... Cioè, l'effetto che crea è un po' la reazione che ha avvolto a Mr. Market. Ve lo racconto sempre. Mr. Market, quando le cose vanno male, tende a far crullare furiosamente il mercato eccessivamente, perché alla fine va a finire così, come quando le cose vanno bene, tende ad andare in euforia e a farlo salire eccessivamente. In particolar modo, poi, se ci spostiamo su singoli titoli, singole situazioni. Ma la banca centrale vorrebbe una stabilità. Quello dovrebbe essere il suo fine. E quindi cerca di dominare i cicli economici che però sono inevitabili, utilizzando diversi strumenti, fra cui i tassi di interesse. E guardate, ogni volta che è andata intervenire sull'aumento dei tassi di interesse per frenare gli entusiasmi, per non creare magari situazioni di bolle, di bolla, o per andarle a ridurre. Insomma, quando il mercato, quando l'economia, quando i mercati finanziari sono troppo euforici, comincia a essere un problema, perché la situazione può andare fuori controllo e poi si scadena una crisi finanziaria. L'abbiamo visto con il dot com, l'abbiamo visto cento anni fa con la crisi nel 29, lo stiamo vedendo in questi giorni, in questo nostro periodo storico, con l'inflazione fuori controllo. Quindi troppa euforia, troppa disponibilità economica, troppa ricchezza, troppa percezione di ricchezza, poi porta a un squilibrio economico. Quindi cosa si deve fare? Bisogna alzare i tassi di interesse. Così come quando c'è una crisi, bisogna ristimolare l'economia, bisogna abbassare i tassi di interesse. Ma guardate, non ci sono mai riusciti a evitare questa situazione, ovvero ad avere tutto sotto controllo. Si è sempre scatenata inevitabilmente una crisi. Quindi o non sono stati in grado di farlo, oppure addirittura a volte l'hanno scatenata, o l'hanno fomentata, o non sono riusciti a dominarla. Tutto qui. E lo vediamo. Guardate, aumento dei tassi di interesse, per dire qua 2008, super crisi finanziaria. Aumento dei tassi di interesse, 2020, ok c'è stato un cigno nero, ma intanto è andato a finire così. Aumento dei tassi di interesse, fino agli anni 90, inizio 2000, abbiamo visto anche nel grafico iniziale, e poi grande crisi. Spostiamoci qui, col crash dell'87, vedete che poi, dopo è seguita comunque una crisi, qui all'inizio degli anni 90, abbiamo visto qui il picco di tassi di interesse. Ma spostiamoci ancora, e qui negli anni 80, abbiamo visto degli scenari simili. Quindi, picco di interesse, e poi segue sempre una crisi, a volte anche profonda. Speriamo che questa volta, la crisi, non corrisponda a un atterraggio duro, bensì morbido, ma il pericolo è sempre dietro l'angolo. Andiamo ancora avanti, e poi magari alla fine diciamo, quale potrebbe essere, no, la teoria, cioè quale potrebbe essere, quell'ennesima anomalia, che magari, invece di condannare, inevitabilmente, all'atterraggio duro, perché tante dinamiche ci portano a questo, potremmo salvarsi con l'atterraggio morbido. Cosa c'è di differente? L'abbiamo visto anche l'anomalia iniziale, dei tassi di interesse, che corrono, corrono, corrono verso l'alto, con un mercato che scende, scende, scende. Dopo ne parliamo alla fine del video, sulle nostre conclusioni. Guardate qui, come sia importante il debito negli Stati Uniti d'America, ma direi un po' in tutto il mondo, poi gli Stati Uniti d'America, sono veramente i maestri in questo, La crescita, del loro pila straordinaria, è sempre stata guidata, da generazioni di debito. Ci sono diverse tipologie di debito, potremmo vedere il debito del governo, ma in questo caso, cioè dello Stato, in questo caso comunque andiamo a vedere il consumer debt. Quindi, praticamente, il debito dei consumatori, banalmente le carte di credito, o tutto quanto quello che vi viene in mente, associato a debito e consumatori. Guardate, no? Come, vadano di pari passo, cioè, negli Stati Uniti d'America, si utilizzano sempre più carte di credito, si prendono sempre più prezzi, dei mutui, e così via. E sono molto, ma molto utilizzate le carte di credito. Vi ho portato dei grafici, nei giorni scorsi, in cui vi mostravo l'esplosione degli ultimi mesi, dell'utilizzo delle carte di credito. Significa, comunque, no? I risparmi, stanno venendo meno. Andiamo ancora avanti, Ah, e poi concludiamo sulla slide precedente, perché ve l'ho fatto vedere? Vi faccio capire perché è così importante ad oggi, sempre di più, il tasso di interesse. Una società che si mantiene sul debito, necessita di tassi bassi. Ecco perché poi vi è stata, guardate questa tendenza, guardate, i nuovi massimi, dei tassi di interesse, sono sempre stati più bassi dei massimi precedenti. e magari anche questa volta potrebbe essere così, oppure si potrebbero sfiorare i massimi precedenti, ma permane questa tendenza, questo schiacciamento dei tassi di interesse verso il basso, pur mantenendo una loro ciclicità di rialzo, di tagli, e così via, vedete questo schiacciamento e dipende appunto dal debito. Una società ricolma di debito, ripeto, necessita di tassi bassi, i tassi alti la uccidono. Andiamo avanti e qui invece andiamo a vedere quella che è la fiducia delle aspettative economiche delle imprese. Lo osserviamo da questa linea grigia. Guardate com'è bassa, in questo riquadro, in basso a destra. Che significa? Che qui più o meno, ora è variabile, vedete adesso magari va un po' meglio, ma circa, avete adesso, 40, ma in passato pure il 50, 55, insomma più o meno la metà delle aziende hanno veramente un'aspettativa pessima, no? Questa è la diminuzione, questo è il valore da 0 a meno 50, questo voglio dire l'aspettativa pessima da parte delle aziende in questo indicatore. Quindi i CEO, i team, i management, i manager, così via, si stanno preparando, sono molto convinti di dover affrontare le difficoltà da diversi mesi. Magari questa volta per le aziende un po' più illuminate, quindi non parlo dell'immondizia, forse potrebbero arrivare più preparati di tante altre volte, magari ci salviamo anche in questo senso, vedremo. Ora, guardate quest'altro grafico abbastanza inquietante, cioè praticamente dove si trovano adesso gli earnings, quindi la direzione degli earnings dell'S&P 500 rispetto a quelle che sono le previsioni della crescita economica del trend nel lungo termine. Cioè praticamente è un indicatore che si costruisce pensando ok, vi è uniformità o le attuali utili sono ben al di sopra rispetto a quello che è la tendenza nel lungo termine o ben al di sotto e quindi possiamo anche vedere un regime diciamo di sopravvalutazione o sottovalutazione del mercato o di utili rispetto a quello che potrebbe essere l'andamento, cioè più è schiacciato più in basso più veniamo ovviamente da una crisi economica più il mercato sarà depresso più ci sono le possibilità di poter fare un buon investimento per il lungo termine. Però quello che vi voglio far notare è che i valori così alti si raggiungono solitamente verso la diciamo gli scoppi delle bolle quindi guardate un livello così altro l'abbiamo visto nel tech bubble poi l'abbiamo visto nel real estate credit bubble e ad oggi come mi ha definito il nostro tempo in realtà lo stanno chiamando l'everything bubble perché la bolla di tutto di ogni cosa beh abbiamo visto crollare le cripto quindi vuol dire che erano in bolla al di là che abbiano o non abbiano fondamentali che siano percepite come immondizie oppure no però venivamo da una bolla si sta parlando di crisi immobiliare negli states perché comunque venivamo sicuramente da un'enorme crescita uguale bolla e abbiamo visto le obbligazioni in termini di valore crollare perché? perché anche eravamo in bolla d'altronde venivamo da un'era prolungata di interessi pari allo zero l'azionale lo sappiamo non ne parliamo insomma ragazzi gli asset qui più o meno stanno finendo abbiamo visto anche andare in bolla i prezzi delle materie prime veramente qualunque cosa è andata in bolla e quindi dobbiamo aspettarci che subitamente vi sia un crollo di questo grafico uguale crollo degli utili recessione e crollo del mercato azionale solamente questa è la dinamica ora andiamo un po' a vedere qui l'andamento dell'economic composite index e dell'S&P 500 quindi vanno a braccetto cioè alla fine si ristabiliscono il ritorno vedete l'S&P 500 va a seguire sono molto simili l'andamento degli indicatori che vanno a comporre poi questo indice composite economico ma perché lo sto osservando non è che ci racconta chissà che cosa è perché effettivamente il mercato può essere isterico può essere caro può essere a sconto può anticipare l'economia ma inevitabilmente nella sua ciclicità si va a sovrapporre la ciclicità dell'economia reale lo vediamo qui e poi notiamo anche qui no warning recessione cioè guardate questa linea tratteggiata rossa quando noi veniamo dall'alto verso il basso vedete con queste due linee indicatori vediamo il rapporto che c'è nel change fra l'economic composite index l'S&P 500 l'alto verso il basso un po' come l'incrocio dei media mobili comunque stiamo in pericolo di recessione cioè abbiamo toccato il valore nel senso un altro passetto solitamente è recessione ora qui prima di ritornare a schermo e quindi prima di fare le nostre conclusioni salutarci andiamo a vedere anche quest'altro grafico molto importante guardate con le frecce rosse la tendenza il nuovo ciclo diciamo rialzista dei tassi di interesse al rialzo e cosa ne consegue praticamente sempre o più o meno se non ne consegue va a braccetto cioè se non è detto che uno anticipi l'altro ma più o meno diciamo quello è il movimento no? magari prima inizia un indicatore anziché un altro cosa stiamo osservando con la linea blu l'earnings growth rate quindi comunque la crescita degli utili vedete che a volte può partire uno a volte può partire un altro ma vedete che quando vi è un rialzo dei tassi di interesse vi è una decrescita segue sempre vedete degli utili quindi a volte i picchi non sono raggiunti nello stesso momento ma inevitabilmente una crescita dei tassi di interesse provocherà o sta accompagnando accompagnerà una diminuzione della crescita degli utili delle aziende che compongono le S&P 500 e poi alla fine proprio delle società che compongono l'economia reale degli Stati Uniti d'America e questo funziona in tutto quanto il mondo e questo è il meccanismo e poi che succede colonna grigia uguale recessione cioè è una regola non scritta ma è sempre così freccia rossa tassi di interesse diminuzione degli utili recessione è normale che i tassi di interesse così alti provi con una recessione lo diciamo sempre ma come mai e perché ma se io mi devo comprare una macchina la ruota costa il doppio se io mi devo comprare una casa e tutto la rata del mutuo costa il doppio già il solo fatto di rinunciare magari a questi due beni pensate quanti altri ce ne sono pensate anche a quanto indotto si rinuncia voi immaginate una transazione di un immobile una compravendita immobiliare non fa guadagnare soltanto l'agenzia immobiliare oppure diciamo nel mondo di cultura latina notai e poi perché comunque funziona in maniera un po' diversa non c'è la classificatura del notaio ma insomma non solo chi si dedica diciamo alla tutela del passaggio della proprietà ma quasi sempre ci sarà di mezzo una ditta che fa ristrutturazioni costruzioni manutenzione e così via e tutte le materie prime che sono connesse i prodotti immaginate l'arredamento e magari non so il giardiniere dipende che tipo di immobile abbiamo c'è tutto un indotto a cascata e poi ci sono tantissimi altri settori quindi è normale che si generi questo fenomeno bene ragazzi eccoci qui giunti alla conclusione ma diciamo che molti si appedono un po' all'atterraggio morbido anche se c'è tutti i classici segnali dell'atterraggio duro della recessione insomma manca poco a vedere magari quel tipo di situazione perché in realtà questi movimenti forti da parte della Fed hanno dovuto andare a contenere un'inflazione che esplosa come non si vede praticamente da 50 anni inoltre vi era tantissima massa monetaria le famiglie avevano tanti soldi da parte anche se ormai si sono bruciati ma andavano diciamo appunto drenati andavano consumati quindi forse quei risparmi quei sostegni così forti dell'epoca pandemica potrebbe aver creato quel cuscinetto che renderanno l'atterraggio morbido invece che duro ma in che senso una volta prima delle crisi famiglie cittadini imprese magari non avevano avuto accesso a quel tipo di cuscinetto quindi uno casca per terra con un cuscino si fa meno male questa diciamo è la morale della faula è l'analogia fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti spero insomma di avervi fatto cosa gradita con questo contenuto così tutti quanti insieme ripassiamo un po' le dinamiche della macroeconomia io vi ringrazio e come sempre prima di salutarvi vi auguro il meglio nella vita degli investimenti a prestissimo e ciao grazie a tutti